Partenza in salita per il bonus da 600 euro disposto per l'emergenza coronavirus. Da oggi infatti è possibile presentare le domande attraverso il sito web dell'Inps, ma l'accesso al portale è difficile per molti utenti. Già da questa notte infatti migliaia di persone si sono collegate per inoltrare le richieste e il gran numero di accessi ha mandato in tilt il sistema. 100 domande al secondo, ha dichiarato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, ma non c'è fretta. Le domande infatti possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, ha aggiunto Tridico, anche perché il governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure, sia per altre. Non c'è fretta, ha quindi sottolineato Tridico, ma questa dichiarazione appare in contrasto con quanto apparso ieri sul sito, circa l'accettazione delle domande in ordine cronologico, cioè di che prima arriva, in assenza di un criterio di riparto dei fondi, ovvero 3 miliardi, qualora questi non bastassero. Tra l'altro questa mattina ha grave problema sul sito dell'Inps, su cui sono stati esposti i dati sensibili dei contribuenti. Nome, cognome, codice fiscale, perfino indirizzo di casa, comune di residenza e numero di telefono. Tutto completamente accessibile, frutto di una grave falla nella sicurezza del sito che potrà avere svolte imprevedibili per la privacy degli utenti. Le persone che hanno diritto ai 600 euro sono circa 5 milioni, tra lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo, agricoli, stagionali, liberi professionisti con partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi. Per beneficiare del bonus non occorrerà presentare l'Isee né alcuna dichiarazione dei redditi. Non potrà ottenerli però chi già riceve il reddito di cittadinanza, un assegno ordinario di invalidità o una pensione.